Benvenuti nel podcast di M&A International Consulting. Qui i risparmiatori medi si trasformano in investitori esperti. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Investire Semplicemente, il podcast di Matan Associate International Consulting che parla di economia, investimenti e finanza. Oggi parleremo dei dividendi. Un tema importante per quanto riguarda l'analisi di un'azienda, l'analisi di un'azione, ma anche in realtà di un indice azionario o di un fondo di investimento che investe in un indice azionario, anche se in realtà è un argomento leggermente diverso che comunque vedremo alla fine di questo episodio. Questo argomento è sulla fondamentale importanza, validità dei dividendi. I dividendi sono validi? È importante pensare ai dividendi come strategia di investimento? Beh, risponderemo a tutte queste domande in questo episodio, cercando di capire esattamente l'essenza dei dividendi, come dovrebbero essere utilizzati e perché, a mio avviso, non sono in nessun modo un ottimo strumento per investire, o quantomeno non è il primo strumento che bisogna vedere, a cui bisogna fare riferimento per investire correttamente. Innanzitutto però, perché proprio ora, dopo 42 episodi, anzi 43 episodi, considerando l'episodio zero di questo podcast, decido di parlare di dividendi? Beh, perché in realtà, guardandomi intorno, ho notato una discrepanza molto importante e molto grave, secondo me, che esiste nell'industria, almeno italiana, degli investimenti o dei corsi di formazione sugli investimenti, insomma. Ci sono degli educatori, di cui ovviamente non posso e non farò il nome per correttezza, che offrono corsi di formazione all'investimento e alla finanza di migliaia di euro, che basano e fanno basare la strategia di investimento tutta sul dividendo, sulla ricerca di azioni o aziende che appunto emettono determinati dividendi con un certo rendimento, con una certa periodicità, ecco. Beh, questa strategia di investimento, come vedremo in questo episodio, è completamente fuorviante, completamente sbagliata, errata e deve assolutamente non essere perseguita dal mio punto di vista. Lo spiegherò cercando di farvi capire esattamente come funziona il dividendo, e esattamente a cosa serve il dividendo e perché esiste un dividendo, ma vi spiegherò anche perché, con un piccolo spoiler, ma l'avrete capito ormai, il dividendo è completamente irrilevante quando si investe, ok? Quindi, innanzitutto, dobbiamo stare molto attenti, ed è questo quello che è il primo avvertimento che vi do, state molto attenti a quello che leggete e a quello che vi propongono questi educatori, state veramente attenti perché ci sono moltissime informazioni che sono lì solamente per vendervi qualcosa, piuttosto che per aiutarvi davvero ad investire. E in secondo luogo fate le vostre ricerche, informatevi, studiate, lavorate sulle informazioni che prendete e soprattutto fatelo prima di arrivare a comprare un corso o appunto chiedere l'aiuto di un esperto. E questo è molto importante per la vostra educazione finanziaria, ma anche per la vostra ricchezza, benessere, perché alla fine si sta parlando dei vostri soldi e si sta parlando dei vostri investimenti che devono essere appunto gestiti bene, fin dall'inizio, senza errori veramente da principianti come questi che sto sentendo in giro, tra l'altro ad un costo assolutamente proibitivo e spaventosamente alto, considerando la qualità, devo dirlo, veramente bassa dell'informazione. Ora, dopo questa lunga premessa, addentriamoci nel tema. Che cos'è un dividendo innanzitutto? Il dividendo è una parte di profitto che l'azienda rilascia e distribuisce ai propri investitori che ricevono appunto questo dividendo sotto forma di denaro liquido, cash ogni tot mesi quando l'azienda appunto decide di distribuire questi dividendi. Solitamente le aziende, ovviamente ci sono delle differenze da paese a paese, ci sono differenze tra aziende e aziende, ma solitamente il classico dividendo viene rilasciato ogni tre mesi, quindi trimestralmente. Questo significa che l'azienda decide l'anno prima quello che sarà il dividendo per ogni azione che verrà rilasciato appunto nell'anno seguente e l'investitore riceverà questo numero, questo coefficiente, questo dividendo per ogni azione che possiede. È molto semplice ed è veramente facile da capire che alcuni degli investitori potrebbero essere spinti ad investire in determinate azioni proprio perché queste aziende emettono un dividendo molto alto rispetto al prezzo delle azioni o al prezzo di acquisto delle azioni stesse. Quindi è ovvio a cosa possa servire il dividendo ed è ovviamente una metrica che esiste ed è da tenere in considerazione quando si decide di acquistare un'azione. È normale che ci siano differenze se un'azione emette un dividendo del 5% rispetto a un'azione che non emette dividendo o emette un dividendo dello 0,5%. Tuttavia queste differenze sono molto sottili e non sono così ovvie come in realtà potreste pensare. E cerchiamo di vederle queste differenze. Allora innanzitutto prima di concludere diciamo la descrizione del dividendo bisogna dire una cosa molto importante su di esso. Le aziende possono decidere a loro piacimento se emettere o non emettere il dividendo ma soprattutto se modificare il dividendo, se abbassarlo, se aumentarlo per l'anno successivo. Insomma sono completamente padrone della decisione sull'emissione del dividendo. Quindi vedremo che ci sono alcune aziende come Facebook ad esempio, Berkshire Hathaway, l'azienda di Warren Buffett, la holding di Warren Buffett che non emettono dividendo e vedremo tra l'altro anche perché, ci sono altre aziende come ad esempio Apple che emette dividendo. E di conseguenza Apple potrebbe decidere di smettere di emettere il dividendo dall'anno prossimo, Berkshire Hathaway potrebbe decidere di iniziare ad emettere dividendi dall'anno prossimo. Entrambe possono decidere anche quanti dividendi emettere e in che modo emetterli. Ok? Voglio farvi capire che le aziende sono assolutamente padrone della decisione di distribuire i dividendi o di non distribuire i dividendi ai propri investitori. Ed ecco che subito possiamo notare il primo punto a sfavore dei dividendi. Non hai tu investitore, non hai controllo su quello che succede al tuo dividendo. È vero, potresti scegliere aziende che hanno emesso dividendi per tutta la loro vita aziendale, quindi è da 50 anni che emettono dividendi, e in teoria dovresti essere abbastanza sicuri che quell'azienda continuerà ad emettere dividendi anche il prossimo anno e anche l'anno prossimo e anche l'anno successivo. Tuttavia ci sono delle aziende che con questa crisi del coronavirus che abbiamo visto recentemente hanno totalmente smesso di emettere dividendi anche e nonostante i 50 anni di esperienza o è 50 anni di vita e di carriera aziendale con dividendi emessi regolarmente. Quindi nel momento in cui voi avete un investimento basato soltanto su dividendi, avete acquistato per anni aziende che emettevano dividendi senza guardare quasi a nient'altro se non appunto il dividendo emesso e la solidità di questi dividendi e di punto in bianco smettono di emettere dividendi. Quindi voi vi ritrovate senza una rendita e avevate creato l'investimento esattamente per quello. Ma in realtà questo è solamente un punto e vi assicuro che è il minore sulla non rilevanza dei dividendi ed è sicuramente un punto importante ma è sicuramente il meno utile per capire la totale insufficienza del dividendo come primo elemento cardine di un investimento. Secondo punto, voglio provare a spiegarvi perché il dividendo non è rilevante dal punto di vista aziendale e anzi dal punto di vista di un investitore ma guardando alla propria azienda in cui sta investendo. Ricordatevi che investire in azioni significa avere proprietà dell'azienda, giusto? Di conseguenza, come anche suggeriscono grandi dell'investimento tra cui Warren Buffett e come anche suggerisco io, quando pensiamo ad investire in un'azione bisogna pensare ad investire in un'azienda come se voi foste proprietari stessi dell'azienda. Quindi pensiamo all'azienda come di nostra proprietà. Cosa cercheremo di fare se noi siamo proprietari dell'azienda? Cercheremo di espandersi il più possibile, di fare più profitti possibile, di migliorare il nostro business il più possibile, cercheremo di dare il miglior servizio possibile ai clienti, cercheremo di far felici gli investitori, i fornitori, cercheremo di pagare in tempo, di essere pagati in tempo, insomma cercheremo di crescere in modo costante il più possibile e anche, tra virgolette, nel minor tempo possibile, no? È un po' la strategia di ogni azienda, cercare di essere il più efficaci ed efficienti possibile nel mercato. Nel momento in cui noi abbiamo un profitto, cosa possiamo fare con quel profitto? Se un'azienda non ha profitti, ovviamente è già un problema, ma facciamo finta che abbiamo profitti e quindi siamo un'azienda solida, anzi abbiamo un'azienda solida essendo noi proprietari. Cosa possiamo fare con quei profitti? Beh, possiamo ritenerli, tenerli all'interno dell'azienda oppure distribuirli. agli investitori, tra cui anche noi stessi, visto che siamo i proprietari, giusto? Come si distribuiscono i profitti tramite il dividendo? Quindi tu, azienda, potresti semplicemente dire, perfetto, ogni anno distribuiamo un tot dei nostri profitti ai nostri azionisti. Ed è esattamente come funziona il dividendo. D'altra parte però, un'azienda come ad esempio Berkshire Hathaway o Facebook potrebbe dire questa cosa, io non distribuisco i profitti ai miei investitori, ma piuttosto prendo tutti questi guadagni e li inserisco nell'azienda e li utilizzo per acquistare nuovi macchinari, migliorare una parte della produzione, potrei acquisire nuovi impianti, potrei investire nuovi prodotti, potrei migliorare una parte dei processi, potrei rendere più efficiente alla mia azienda così che produca in futuro ancora più profitti. Ora, a livello di ragioneria o a livello di accounting, che è la stessa identica cosa, se l'azienda distribuisce i dividendi agli investitori oppure se l'azienda ritiene questi dividendi al proprio interno, come potete immaginare il valore dell'azione cambia. Da una parte, se l'azienda distribuisce i dividendi, beh, sta togliendo dei profitti e li sta dando agli investitori, quindi il prezzo dell'azione tendenzialmente dovrebbe rimanere fermo, ok? D'altra parte, invece, se l'azienda prende quei profitti e non distribuisce i dividendi ma li reinserisce tutti per appunto migliorare il proprio servizio e in generale fare altri investimenti, il prezzo delle azioni salirà, perché quel cash che non è speso da parte dell'azienda per gli investitori è denaro che l'azienda ritiene nei suoi asset e di conseguenza ne aumenta il valore, facendone quindi aumentare anche il prezzo ad azione. Quindi, per farla veramente semplice, non voglio complicare troppo questo podcast, capisco che è difficile anche da spiegare in realtà, ad essere sincero con voi in un podcast, ma spero di essere chiaro. Sia che l'azienda decida di distribuire i dividendi, sia che l'azienda decide di tenere i dividendi al suo interno e non distribuirli, voi, da investitori, a voi non cambia assolutamente nulla. Perché da una parte avrete dividendo cash, però il prezzo dell'azione rimane fermo, dall'altra parte avrete nessun dividendo cash, ma il prezzo dell'azione sale in concomitanza con quelli che sono stati i rendimenti, che sarebbero stati usati per un dividendo. Ok? Quindi non cambia nulla ed è assolutamente importante che voi capiate questa cosa. Ora, perché il dividendo può essere utile? Può essere utile per misurare, come misurazione della solidità finanziaria di un'azienda, come potete immaginare quando si parla di investimenti, quando si parla di azioni, aziende, tutto sta nella consistenza. Ok? Quindi consistenza nei profitti, consistenza nei dividendi, anche in questo caso consistenza nelle operazioni, nei prodotti e servizi che vengono venduti. Insomma, avete capito dove voglio arrivare? Questo piace agli investitori, sapere con maggior precisione possibile che l'investimento che stanno facendo produrrà determinati risultati. Quindi è ovvio che il dividendo può essere utile come misurazione della solidità finanziaria e della profittabilità dell'azienda. Però non può essere il primo elemento su cui un investitore si basa per investire, perché è anche molto più rischioso rispetto che a altri elementi come ad esempio i profitti generali che sono stati fatti dall'azienda o la solidità finanziaria, il livello di debito che ha l'azienda, eccetera, eccetera. Ora, facciamo questo esempio che è un po' drastico, ma secondo me è utile per capire di cosa stiamo parlando. Se voi investite in un'azienda che offre un dividendo del 7-8% rispetto al prezzo e quindi la maggior parte dei profitti che fa lì distribuisce agli investitori, questa azienda non ha abbastanza strumenti per poter rinvestire quei profitti come primo punto. Ma come anche secondo punto? Voi se non calcolate nient'altro che l'elemento dividendo per investire e anzi usate solamente quel 7% che vi sembra oro, non state pensando che l'azienda potrebbe essere in declino. L'azienda potrebbe avere un livello di debito altissimo e magari sta offrendo quel 7% di dividendo proprio per far sì che degli investitori possano essere attratti da quella rendita tra virgolette sicura che è il dividendo, che poi abbiamo visto che in realtà non è così. Quindi dovete capire assolutamente che una strategia basata unicamente sui dividendi è errata, non va bene, perché in realtà il dividendo dovrebbe essere l'ultimo elemento che ha tenuto in considerazione durante l'investimento. Ora, Warren Buffett non emette dividendi dalla sua azienda. Perché secondo voi? Perché lui crede fermamente che lui è più bravo dei suoi investitori ad allocare il capitale. Quindi se quei soldi, quel denaro non viene speso come dividendo, ma viene reinserito nell'azienda, lui, Warren Buffett, l'imprenditore che ha costruito Berkshire Hathaway, forse l'investitore migliore, non solo più ricco del mondo, ma anche migliore del mondo, è sicuro di poter far lavorare quei soldi che sono ritenuti nell'azienda meglio di come lo farebbe un investitore che riceve il dividendo. E di conseguenza lui non emette dividendi, ma fa sì che quei soldi vengano allocati nel migliore dei modi. Ovviamente lui ci mette anche un po' più matematica di come lo sto facendo io qui, stiamo semplificando per farvi capire esattamente il suo modo di ragionare, che io condivido a pieno. La realtà dei fatti è che gli investitori risparmiatori medi non sanno allocare il capitale e di conseguenza ricevere quel dividendo è uno spreco, secondo Warren Buffett, perché in realtà se lui allocasse il capitale meglio tramite Berkshire, gli investitori avrebbero un guadagno migliore piuttosto che ricevere il dividendo. Ultimo punto importante, sui dividendi noi investitori paghiamo le tasse, mentre invece se i guadagni sono ritenuti all'interno dell'azienda, queste tasse noi non le paghiamo. E questa è una cosa importante da considerare, perché per noi questo reddito basato sui dividendi è tassabile e noi non vogliamo in realtà che il nostro reddito sia tassato da qui nel breve periodo, vogliamo che sia tassato solamente quando decideremo di vendere i nostri asset, quando avremo finito di investire, vogliamo far sì che l'interesse composto sia accumuli nel tempo senza dover pagare le tasse. E quindi questo è un altro punto a sfavore dei dividendi. Ora, io capisco che ci sono delle persone che creano queste strategie di investimento perché hanno molti soldi da investire e quindi li allocano in queste aziende che offrono dividendi molto alti e possono ottenere una rendita da questo punto di vista. Ma io vi assicuro e davvero fidatevi di quello che vi dico, fidatevi di come opera Warren Buffett, fidatevi anche di come dichiara e dichiarava anzi perché è scomparso Philip Fisher che diceva che il dividendo è l'ultimo elemento da analizzare quando si decide su quale azione investire. Fidatevi di noi, non usate queste strategie, piuttosto investite in aziende solide che siano profittevoli e che semplicemente abbiano un'ottima valutazione al momento dell'acquisto. Ora, non è semplice, è ovvio che questi tre punti non possono essere splettati in un nanosecondo solamente perché avete sentito questo podcast e anzi, scegliere le azioni giuste è la cosa più difficile da fare per un risparmiatore medio e forse anche la cosa sbagliata da fare. Perché esistono prodotti e strumenti finanziari più sicuri, meglio diversificati, come ad esempio degli ETF o degli indici, scusate, dei fondi passivi indicizzati. E parliamo brevemente prima di lasciarsi su dei dividendi di questi fondi passivi. Cosa succede? Questi fondi ricevono anch'essi i dividendi e per la maggior parte di questi fondi passivi noi possiamo scegliere se investire in dei fondi ad accumulazione o dei fondi a distribuzione. Nel caso della distribuzione i fondi semplicemente trasferiscono i dividendi che ricevono agli investitori. D'altra parte i fondi ad accumulazione fanno esattamente l'opposto, accumulano i dividendi che ricevono e quindi il prezzo del fondo aumenta di valore premiando gli investitori che ci stanno investendo dal proprio interno. Ora, questo è un punto importante, voi dovete favorire i fondi ad accumulazione in una strategia di investimento e il perché ormai dovreste averlo capito se avete ascoltato bene questo podcast. Ora, io spero che tutto questo vi sia stato utile, guardatevi bene intorno, fate le vostre ricerche, fate le vostre analisi e quando poi sceglierete, e io consiglio di farlo sempre l'aiuto di un esperto, cercate di capire chi è davvero l'esperto e cercate di capire chi può aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi e chi invece sta solamente vendendo un corso di formazione. Ora, è stato, come dicevo, molto bello essere qui come al solito, noi ci sentiamo ad un prossimo episodio. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!